Un'altra versione del treno storico abbinata a Friuli Doc. Sì, questo è il sedicesimo treno della stagione che comprende 26 treni con materiale storico. Quest'anno è il secondo anno in cui è stata attivata questa convenzione tra la Regione e Fondazione FES. È un anno che ci ha dato molte soddisfazioni, i treni sono sempre molto frequentati, molte volte tutti esauriti. Quindi anche i territori che hanno partecipato alle varie iniziative sono molto soddisfatti di questi eventi e della promozione che questi treni possono portare ai territori che vengono visitati. Il treno di oggi in particolare che caratteristiche ha? Il treno di oggi è un treno che è legato alla manifestazione Friuli Doc, quindi consente di arrivare con un viaggio lento attraverso il territorio ha una manifestazione che esprime le peculiarità e le caratteristiche principali, non gastronomiche, ma non solo, del territorio. Quindi è un treno perfettamente in linea con quello che è il programma di valorizzazione che questi treni possono consentire di portare avanti in ambito regionale. Di che anno è questo treno? Queste carrozze sono del 1930. La motrice è una motrice diesel ma restaurata, quindi è un treno che in qualche modo ha le caratteristiche di omogeneità rispetto a quella che è un'esperienza di viaggio diversa appunto con materiale storico. Domani parte il treno di Pierpaolo Pasolini da Udine verso Casarsa e San Vito al Tagliamento, un treno che sarà trainato da locomotiva a vapore, quindi c'è quest'ulteriore elemento di particolarità. È un viaggio che toccherà tre realtà perché ci sarà anche una sosta a San Giovanni di Casarsa, quindi Casarsa, San Giovanni di Casarsa e San Vito al Tagliamento, per un'esperienza che lega la figura di Pierpaolo Pasolini con il territorio da cui proveniva e in cui ha avuto relazione molta della sua produzione letteraria e artistica.